Da necessità per chi ha problemi alimentari, ha tendenza diffusa nel nome di una dieta salutare. I prodotti senza glutine stanno conquistando una fetta di mercato sempre più ampia in Italia, con un giro d'affari intorno ai 240 milioni di euro e un aumento esponenziale dei negozi dedicati a chi soffre di celiachia, circa il 10% in più all'anno. Un fenomeno che si traduce nella crescita di fiere ed eventi dedicati, come il Gluten Free Expo, che dopo aver chiuso l'evento dedicato al settore a Rimini, si prepara a collaborare con TuttoFood 2015 per creare uno spazio dedicato al senza glutine all'interno del Salone dell'Agro Alimentare in programma a Milano dal 3 al 6 maggio 2015. Il segno che l'argomento non è più di nicchia, come ha spiegato lo chef Davide Oldani. In tutte le possibilità che c'erano è entrato a far parte il Gluten Free nella cucina, nella grande cucina, perché in un menù armonioso devi comunque rispettare le regole dell'armonia e quindi non mettere solo piatti che abbiano glutine. Mercato più ampio dunque, ma prezzi molto alti per i prodotti Gluten Free, ghiotta occasione d'affari ormai anche per le grandi marche, anche in eventi come questo, che rappresentano un grande sollievo per i celiaci che si ritrovano convivialmente tutti insieme.